a baffoni eccoli qui li metto in mezzo posso? allora 8 e 13 anni loro vengono da Porto San D'Empidio e siete campioni italiani 2009 2009 complimenti e gareggere da San Benedetto del Tronto per la Coppa Italia giusto? allora si esibiranno in 4 balli caraibici i balli caraibici sono 4 sbaglio? ok i primi due che ci fate vedere quali sono? la bagiata e la salta di guadalda benissimo gustiamoci l'esebizione di Nicolás e Maria Baffoni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.